ciao a tutti in primis a christian che ringrazio con col cuore in mano per questa iniziativa assolutamente fuori del comune e non è una frase fatta perché in tanti anni di carriera non mi era mai capitato di potermi raccontare in un modo così naturale perché comunque anche se facciamo parte di un mondo underground dove le luci della ribalta sono le ultime cose alle quali pensiamo comunque nel momento in cui facciamo arte a nostro modo, facciamo musica, chi dipinge, chi scrive comunque nel momento in cui pubblica le sue cose va da sé che si mette in gioco con gli altri con chi può condividere la sua idea, chi la può criticare in maniera positiva, in maniera anche a volte anche invece io la chiamo costruttiva in maniera diversa però in questo modo ha briglie sciolte dove si può essere se stessi a 360 gradi devo dire che è la prima volta che mi capita e quindi sono molto molto contento di questa cosa e la faccio veramente la faccio veramente con entusiasmo perché voglio raccontarvi un po' dei dark lunacy di chi è mike di come sono nati la storia è lunga quindi partiamo subito direi bando le ciance allora vabbè io sono mike appunto come vi dicevo sono nato a parma nel 1972 vivo e lavoro a parma risiedo nella ridente cittadina di salso maggiore terme ed è circa come vi dicevo all'inizio più o meno 25 anni che sono in battaglia forse qualcosa di più perché prima dei dark lunacy c'è stata una parentesi musicale che comunque è servita per farmi crescere e per farmi arrivare fin dove sono arrivato adesso cosa posso dire le mie prime dei miei prime i miei primi contatti con la musica arrivano relativamente tardi perché comunque io fino a 12 13 anni la musica non sapevo neanche cos'era io sono figlio di un musicista in particolare di un fisarmonicista e quindi la musica in casa me c'è sempre stata ma forse per questo motivo la consideravo come un qualcosa come un dato di fatto come qualcosa che appartiene in casa alla casa appartiene ai discorsi che si fanno in famiglia eccetera quindi non mi sono mai diciamo così addentrato più di tanto fino a una certa età poi crescendo mio padre ebbe un'intuizione non so se ringraziarlo oggi oppure no quella di farmi trovare una batteria montata senza impormi niente io avevo credo 14 anni più o meno vedo questa batteria e comincio a picchiare i primi colpi però come fai da solo con una batteria 14 anni quando nessuno dei tuoi amici suona metti su dei dischi metti su dei dischi e ci vai addietro provi a vedere se trovi il tempo se ci stai addietro poi ogni tanto mio padre passava vedeva quando scappavo acceleravo mi dava due o tre consigli finché più o meno comunque dopo un po ho cercato di inquadrare la situazione finché per quel poco che riuscissi a fare sentivo che filava la roba la musica che sentivo riusciva un po a filare e questo comunque ha cominciato ad aprirmi la mente in un certo modo nel senso che comunque metti su questa canzone che è molto semplice i primi i primi pezzi che mettevo su erano pezzi di liscio è il casadei mulino del po castellina pasi questi erano i pezzi di tre quarti il tango sempre una qualche maniera la begin eccetera comunque questo è stato comunque il mio primo approccio finché finché un giorno a casa di un amico di infanzia un carissimo amico che siamo amici fraterni tuttora mi fa ascoltare un disco era un disco degli aerosmith e devo dire che per la mia ignoranza sentivo comunque che c'era un che era assolutamente affascinante e da rincorrere da rincorrere non tanto come batterista ma proprio come come persona cioè rincorrere a livello umano c'erano delle sonorità che non avevo mai sentito che mi facevano star bene e allora era bello trovarsi a casa sua ascoltare gli aerosmith piuttosto che i fieldwood mac piuttosto che i dia straits comunque lì ho cominciato a ingranare a capire più o meno dove ero collocato come come diciamo come ero collocato come sentimenti musicali predisposizione chiamiamolo perché per me la musica comunque è sempre stata quando è fatta bene qualsiasi sia il genere se è fatta bene è qualcosa che ti regala a tuo modo qualcosa di unico no ognuno la sente appunto alla propria maniera e niente viene il il giorno del suo compleanno di questo mio amico io ovviamente voglio regalare un disco vado in un negozio allora a parma ce n'erano tantissimi quindi c'era l'imbarazzo della scelta conoscendo i suoi gusti mi rivolgo al commesso gli dico guarda io un amico che compie gli compieva 15 anni cioè compievamo 15 anni perché siamo comunque entrambi le 72 lui di gennaio e di marzo e cosa mi puoi consigliare allora il negoziante mi dice guarda io ti dico ultimamente sono usciti due o dischi interessanti quello che sta andando forte adesso è questo triunfo surveillage lo guardo un po' perché comunque non ero abituato e devo dire che ero lì che cerco di capire come era un disco perché non l'avevo neanche mai comprato un disco cioè provate siamo proprio agli inizi no se non mi dice se no c'è questo sacrilege solo che capite anche voi che un ragazzino che con la musica non ci sa fare nel suo mondo lo sta scoprendo la copertina dei sacrilege questa bambina e i corvi non ero non ancora pronto a una cosa del genere allora scelgo i triunfo andiamo alla festa di compleanno mettiamo sui dischi mettiamo sui triunfo parte il primo pezzo never say never sono rimasto folgorato ma affolgorato non 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 mi capacitavo di come la musica potesse venire fuori in un certo modo fatto sta che da lì poi parte tutto parte tutto perché il sabato dopo sono andato nello stesso negozio gli ho chiesto cosa aveva dei triunf perché quellisco lì surveillage e poi l'ultimo che tra i un faranno ne faranno un altro nel nel 90 92 penso ma non era ormai un gruppo perché si sono formati nel 78 quindi era era fine carriera poi un gruppo di serie b se vogliamo probabilmente chi mi sta ascoltando non so neanche chi sono non lo so fatto sta che ho cominciato ad andare a ritroso the sport of king thunder seven e ce n'era uno più bello dell'altro e da lì io ho iniziato ad apprezzare l'hard rock l'hard rock quello fatto bene quello con strofa ponte ritornello pezzo in mezzo testi comunque che erano tolti qualcuno qualcuno abbastanza scontato tipici dell'hard rock perché comunque non raccontiamo ce la cioè i nostri idoli noi ridavamo ridavamo a dietro a giovanotti perché diceva che faceva delle canzoni di merda però se poi ascoltiamo i testi di alcuni gruppi hard rock americani sono anche peggio cioè inutile girarci intorno così però nessuna propria timpia in patria l'esterofilia è una cosa che ci contraddistingue da sempre quindi va bene così poco importava l'importante era la musica che ti veniva dentro e quindi il passo successivo il passo successivo è scoprire questi ragazzi qua capitanati da john bon giovanni slippery one with una canzone più bella dell'altra living on a prayer wanted a roller la mia preferita dell'album è quella forse meno meno conosciuta che hai da for you che è meravigliosa secondo me perché quelle sonorità lì sono poi quelle che mi accompagneranno per tutta la vita e niente si va avanti si continua a crescere si continuano a prendere dischi si continua a esplorare arrivano delle cose un po più aggressive siamo sempre sull'hard rock sempre un gruppo di serie di irat disco meraviglioso secondo me questo qua non erano un granché le canzoni perché bon jovi le faceva molto meglio proprio da questa voce graffiante che mi incuriosiva mi piaceva la voce graffiante era una cosa che tra me e me quando mi mettevo con la racchetta da tennis in camera a fare del playback o suonare la batteria in malo modo perché qua cominciavo non arrivarci più altra dietro a loro però cominciavo a veramente a incuriosirmi in maniera strepitosa innamorarmi innamorarmi di questo genere arrivano i tesla dei great radio controversi secondo me un grandissimo album perché poi io scoprivi i gruppi magari nelle loro ultime pubblicazioni e quindi quando mi piacevano poi io cominciavo andare a ritroso no come come starete notando non mi sto nominando i mostri sacri perché comunque per esempio mi vengono in mente i motley crew e altri comunque perché comunque quelli venivano un po' scontati perché poi quando cominciavi a condividere la musica con i tuoi amici che a loro volta vedendoti così carico per quello che ascoltavi si incuriosivano a loro volta diventava un po' come uno scambio delle figurine no io ho preso questo senti qua senti la no quindi ecco diciamo che quello che vi ho appena appena elencato diciamo che è stato l'imprinting che poi mi porterà a lavorare su quello che sarà il mio percorso il cambio di passo credo che avvenga comunque con questo disco rage perfect man perché qua oltre al cantato abbastanza aggressivo dico abbastanza perché forse i cantanti dei tesla anche se facevano euro draw che era più cattivo questi viaggiano porca troia batteria doppia cassa bomba tempi medi di chitarra strepitosi che non si da come cazzo faceva many smith a farli e e boh quello è il genere che diciamo mi ha cominciato a darmi un imprinting ecco e ogni tanto vi chiedo scusa se guardo ogni tanto di qua perché ho riempito la mia la mia bacheca di tutte le cose che voglio condividere con voi stasera quindi siccome ho 25 anni da raccontare due o tre cose me le sono dovute preparare e in contemporanea a tutto questo però a casa mia si ascoltava quella roba qua tipo prokofiev meraviglioso musica classica poi vi ho detto sono di parma quindi parma è la c'è il teatro regio giuseppe verdi giuseppe verdi di parma quindi i parmigiani giuseppe verdi lo mangiano a colazione c'è una cosa innata avercelo tra le corde poi anche se non ti piace la musica classica comunque tu lo ascolti passi per strada c'è magari un bar che è dentro c'è il giuseppe verdi che suona ci sono dei club c'è un sacco di manifestazioni quindi fin da bambino fin da bambini noi con giuseppe verdi ci siamo ce l'abbiamo sempre avuto a fianco quindi questo tocco classico è una cosa involontaria comunque gli anni cominciano a passare cominciamo andare verso i 18 19 anni ve l'ho detto che io sono partito abbastanza tardi e la batteria comunque l'ho sempre coltivata nel mio piccolo si formano le prime band ci mettiamo insieme con quattro amici del quartiere vengono fuori due notti in croce però comunque si va e poi cosa succede quando il gruppo comincia a formarsi comincia a essere una specie di selezione naturale c'è il bassista sì che va bene che c'è perché riempie però non va a tempo allora bisogna trovarne un altro lo stesso bassista che andava a tempo si rendeva conto quindi non c'è neanche messo da litigare tra di noi quindi perché poi io abito in un quartiere abitavo adesso appunto abito a Salso Maggiore ero evidente cittadina termale prima abitavo in un quartiere pariferico di Parma e Fognano tengo il quartiere di Fognano che il nome dice tutto e fatto sta che comunque cominciamo a mettere degli annunci nelle scuole nelle farmate dell'autobus ma era meraviglioso perché tu mettevi l'annuncio e aspettavi che qualcuno ti telefonasse quindi così è stato un po' un incastro di cose il primo personaggio che è venuto a migliorare la band è stato un bassista dopodiché è arrivato un cantante dopodiché arriva un chitarrista c'era questo cambio di formazione continua finché arriviamo più o meno a una formazione pseudo dignitosa dove si suona del metal e lo si suona cercando di arrivare là da qualche parte ma ancora non sapevamo bene dove tutti però convenivamo in un amore comune per un genere perché era il genere che veniva dalla Germania lo speed metal prima power metal poi e perché comunque poi tra i vari grimaldelli di questa storia Keeper of the Seven Keys parte 2 quando io ho sentito Eagle Fly Free per la prima volta da lì ho alzato le mani se non altro avevo capito dove era il sentiero che ci arrivasse in fondo meno era tutta da giocarsi però avevo capito Blind Guardian questo era quello che al quale lavoravamo come band diciamo ci chiamavamo Shine e da lì registriamo un primo demo Landfall dove io suono la batteria cresciamo ulteriormente un altro piccolo cambio di formazione un paio d'anni dopo secondo demo Shine from Beyond un giorno li pubblicherò perché secondo me ne vale la pena visto che stiamo parlando di underground non è male come underground però penso che questo sia un sentimento che abbiano provato in tanti arriva un punto dove se non hai sbocchi se il tuo suonare si limita alla sala prove e a qualche concerto delle scuole dove magari ti riempiono di complimenti ma poi si ferma tutto lì o andare a limusinare un'apertura di un concerto da qualche parte dopo un po' devi fare delle scelte le strade sostanzialmente sono tre o la smetti basta perché comunque non ti diverti più perché se la prove poi alla fine se la prove se la prove se la prove oppure ti accontenti scusa e quindi ti diverti perché comunque la sala prova è anche come andare al bar a un certo punto perché suoni passi il sabato pomeriggio bevi due birre oppure provi a usare qualcosa di più provi a fare qualcosa di tuo però questo era il mio pensiero insomma questo era quello che poi è nato negli anni il metal l'hard rock la musica classica mi stava succedendo qualcosa volevo provare a capire se si poteva usare qualcosa di più condivido questo mio discorso con gli Shai appunto gli Shai sono di tutto altro avviso e quindi la storia si chiude lì come band diciamo perché poi il colpo l'asso l'asso di briscola della mia vita musicale cala appunto da questa situazione il famoso detto che quando si chiude una porta magari si apre un portone ecco mai mai più vera fu questa frase per quanto mi riguarda in questo frangente musicale che appartiene alla mia vita a Parma in quegli anni imperversava incontrastato il gruppo assolutamente più forte e bravo che erano i Wyvern un power metal molto raffinato e un contemporaneo nasceva nel distruzione una band death metal a mio avviso straordinaria a di là che sono amici ma i fatti poi lo hanno dimostrato in seguito e io frequentavo entrambi l'istruzione molto meno più che altro era un ciao ciao perché non avevamo gli stessi obiettivi proprio come io compagnie diverse eccetera e vabbè ma queste sono cose superfili con gli Wyvern invece mi piacevano tantissimo e all'epoca quello il il chitarrista produttore degli Wyvern gli Wyvern erano già un gruppo molto avviato che viveva brillava di luce propria però in quel periodo Simone Ferrari chitarrista era quello che stava producendo le cose più belle a mio avviso gusto personale degli Wyvern quindi l'ho contatto e gli propongo di ascoltare qualche nota un po' goffa che ho che ho scritto al pianofono con un cantato appena accennato perché come vi dicevo mio padre comunque era un musicista soprattutto fisarmonica ma comunque il pianoforte in casa nostra c'era quindi due strimpellate ogni tanto le si davano e registro con un walkman un giro di accordi come vi dicevo abbastanza goffo e io vado con la sua a proporglielo e qua c'è un aneddoto che tra l'altro ho pubblicato recentemente che è un po' all'inizio di tutto perché perché quando gliel'ho portato io mi vergognavo fondamentalmente perché sapevo la caratura del musicista che era e la scena è stata proprio quella di tra l'altro nevicava c'erano tutte le condizioni del pathos che serviva in quel momento gli do la cassetta gli chiedo con una scusa se posso stare fuori a godermi la nevicata a fumarmi una sigaretta intanto eccetera e lui va ad ascoltarsi queste note questo pezzettino di un minuto un minuto e venti lo fece l'epoca perché perché lì dentro comunque c'era una specie di quelle quattro note quelle quattro note di merda che avevano dentro quello che ero io da bambino fin da bambino c'erano dei sentimenti antichi consapevole però di non essere un musicista in grado di trasmetterle e quindi di aver bisogno di un produttore quando gli ho consegnato gli consegnai la cassetta ho detto ascoltatela da solo perché sarebbe stato veramente difficile per me poi vedere il suo ghigno che si contraeva quando ascolti un pezzo che ti fa cagare ti viene automatico tirato un po' indietro avevo paura che accadesse quello quindi l'ho lasciato andare Simone esce dopo aver ascoltato il pezzo e mi dice hai in mente un'idea per questo progetto partiamo dal nome no? guarda sì secondo me Dark Lunacy è quello cui ho pensato allora mi guarda e mi dice boh tu da oggi sei Mike Lunacy dei Dark Lunacy però adesso vieni dentro che c'è freddo che ci beviamo qualcosa ed abbiamo cominciato da lì abbiamo cominciato da lì a buttare giù alcuni pezzi nel mentre nel mentre accadeva tutto questo comunque si continuava ad ascoltare musica si continuava soprattutto io e finché un giorno quasi sì no mi è venuto in mente scusate un giorno non quasi nel negozio di dischi per quello ormai ho avuto cliente affezionato sarà capitato tanti di voi ogni tot disco potevi prenderne uno in regalo e sono andato là cercando un disco che non un cd che non non avevo trovato era un live cercavo un live dei blind guardian in Giappone Giappone e non l'ho trovato però ormai che ero lì il 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 commesso mi dice guarda intanto prenditi un disco il disco che che te lo sei guadagnato perché mi hai già preso e allora così nel mucchio sparando nel mucchio alternative for dei anatema per una serie di aneddoti che non sto qui a raccontarvi lo prendo insieme a at the gates slaughter of the soul avevo questi due cd dopo poco dopo pochi dopo una settimana dissection storm of the light bug ora voi mettete insieme questi tre cd ecco da lì praticamente con le idee che avevo in testa a livello lirico con l'innamoramento di questi tre generi completamente diversi tra loro e con Simone alla produzione nasce il primo demo dei Dark Lunacy Silent Storm è abbastanza buio non so se si vede Silent Storm 5 pezzi e con questi 5 pezzi si va a cercare fortuna o meglio a procurar battaglia se vogliamo eravamo in 3 Simone Mike Lunacy Volt Volt è la batteria Mike Lunacy basso e voce Simone che diventerà Enomis alla chitarra e tastiera e arrangiamenti Sine Storm comincia a girare un po' dappertutto miglior demo siamo nel 98 miglior demo di qua miglior demo di là e finché un giorno un giorno ci chiama suona il telefono Vittorio Lombardoni self della self che è una etichetta di distribuzione stata leader per anni quando i dischi si vendevano ancora ci contatta da Milano e ci chiede se abbiamo voglia di fare due chiacchiere ovviamente qua io sto un po' stringendo già che sono lungo di mio quando parlo non so se l'avete notato ma sto stringendo ci sono le motivazioni perché ci ha contattato quasi carambolesche grazie a grazie a un negozio di dischi di Parma che ci ha messo in contatto con lui quello che conta alla fine la sostanza è che lui si interessa a Ivar Clunas ci chiama ci fa delle proposte e noi diciamo di sì ma diciamo di sì perché questo è quando tu ami quello che fai noi al di là del demo Silent Storm avevamo già scritto altri pezzi poi su Silent Storm ci finiscono i 5 che per noi erano i migliori quindi arrangiati suonati e con un sistema quasi innovativo per l'epoca oggi lo fanno tutti all'epoca Simone e Nomis si inventa che con l'Atari che è un videogioco esiste un programma che ci può aiutare a griglia a mettere in griglia le varie sessioni magari di archi piuttosto che di batteria si può per preprodurre un pezzo fare una batteria elettronica che sembra quasi vera senza dover star lì a perdere ore e ore di prove perché erano ore quando tu registri un pezzo sono ore di prove in quel modo usando l'Atari che poi diventerà Cubase che poi diventerà Logic che poi diventerà Pro Tools perché era un programma dell'Atari dell'86 se non sbaglio siamo nel 98 quindi era veramente con i floppy disk funzionava cioè questo monitor mi piacerebbe se dovevo pensare a farvi vedere una foto una foto per chi si sta chiedendo com'era questo marchi ingegno con questo con un paio di adat che erano registratori con VHS cominciamo a registrare i nostri brani e siccome il metodo comunque dopo un po' che avevamo ingranato funzionava avevamo già messo diciamo in cambusa diverse idee come vi dicevo su Silent Storm ci finiscono i brani diciamo che abbiamo scelto più più pronti nel frattempo però continuavamo come vi dicevo e qua ritorna il discorso di Procopie Giuseppe Verdi Di Baldi Mozart ovviamente con i dovuti paragoni c'era già qualcosa che si stava muovendo nell'area a livello di metal c'erano i Therion che avevano iniziato a mettere i cori e gli Anathema usavano molto i violini e quindi poi arrivano i My Dying Bride ci sono comunque delle produzioni grosse che cominciavano a mettere gli archi e i cori musica classica allora noi diciamo sì però noi lo facciamo proprio in maniera alla nostra maniera alla parmigiana che non sono le melanzane e ci mettiamo quello che avevo imparato fin da bambini dentro quindi via avanti tutta finché quando il nostro produttore colui che diventa la nostra produttore Vittorio Lombardo ci dice avete qualcosa sì siamo già pronti in poche parole è stato questo quello che avevano detto e allora lui fa ok allora facciamo un disco e lo facciamo bene e lì The Void il primo quello con Dolce per intenderci in The Void ci sono delle cose clamorose per chi vi parla ci sono anzitutto un paio di pezzi dal demo registrati con gli archi veri ci sono alcuni pezzi con i cori veri che fino ad allora noi nel nostro piccolo non avevamo mai sentito fare da nessuno a livello di metal se non qualche qualche cosa in particolare quindi noi eravamo già arrivati a livello emotivo a livello morale questo ci dava una carica per andare avanti incredibilmente avanti The Void è particolare per i Dark Luna sì perché oltre a Dolce ci sono due pezzi uno è Stalingrad e l'altro è Forlorn Forlorn in Forlorn sperimentiamo i cori i cori russi quelli che non piacevano al povero battiato e il metal con cori russi è stata una cosa nuova e il nostro produttore si è gasato e ci fa fare il disco dopo che è Forget Me Not siamo nel 2003 The Void del 2000 perché vi ho parlato di Stalingrad e perché vi ho parlato di Forlorn e non vi ho parlato che ve lo dico adesso di Varenka Varenka all'interno di The Void è un omaggio a un racconto di Fyodor Dostoevsky che è povera gente che io adoro Dostoevsky fin da ragazzino non vi elenco tutte le cose che ho letto vi lo consiglio perché lui scriveva a metà ottocento quello che sta accadendo adesso e accadrà anche fra vent'anni a livello sociale e politico quindi romanzando però cioè mettendo mettendoci l'amore mettendoci i desideri i sogni le cadute le rialzate Dostoevsky è meraviglioso povera gente la protagonista è Varvara Fyodorovna Alexievna detta Varenka e cominciamo a intraprendere anche un po' quello che sarà poi il nostro il nostro imprinting nei dischi successivi dischi successivi che sfociano in The Diarist l'assedio di Leningrado l'assedio dei 900 giorni di Leningrado per lavoro mi trovavo a San Pietroburgo che è la San Pietroburgo durante la seconda guerra mondiale era Leningrado e conosco vengo conoscenza dell'assedio di 900 giorni cosa che a scuola non ce l'hanno mica insegnate è stata un'epopea clamorosa la città assediata dall'esercito tedesco per 900 giorni la differenza della battaglia di Leningrado e quella di Stalingrado è che a Stalingrado si combatteva mattone per mattone non casa per casa mattone per mattone qua invece la città era assediata praticamente la gente moriva all'interno perché non arrivava nei rifornimenti quindi moriva di fame moriva di freddo moriva di neddia e di pazzia ma lo spirito di Leningrado ve la riassumo così a Leningrado c'è il museo della resistenza dei 900 giorni all'interno di questo museo in mezzo salto tutti i preamboli perché se ve lo descrivo tutto qua viene facciamo veramente notte c'è un metronomo che continua a battere ancora oggi nel buio quel metronomo lì era usato a Leningrado durante l'assedio perché veniva trasmesso dagli altoparlanti nelle strade Leningrado aveva 6 milioni di abitanti nel 1941 alla fine dell'assedio ne aveva meno della metà sono morte 3 milioni di persone in quell'assedio per gli motivi che vi ho detto prima quando non c'era più speranza quando sembrava che la morte era lì accanto a te per le strade ci sentiva il metronomo che voleva dire che nonostante tutto il cuore della città batteva ancora questa era nel silenzio la speranza più grande per Leningrado e comunque adesso non te ve lo sto raccontando e da lì comincia la mia ricerca i 900 giorni di Salzburg un libro meraviglioso vi leggerei dei passi ma sto parlando veramente tanto perché mi ha preso il pato adesso non mi fermo più e quindi The Diarist The Diarist a livello emotivo è quello che sento di più poi va bene così cioè ogni disco è bello perché per esempio Forget Me Not il disco prima è quello che ci ha fatto andare in Messico ci ha fatto diventare eroi in patria in Messico Dolce ascoltate questo è il tour del 2017 fatto in Giappone ci ha aperto i dischi ci hanno aperto l'opportunità di andare oltreoceano oltre 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 confine oltreoceano e di questo insomma è una cosa che io racconto con orgoglio ma non è il mio orgoglio è intimo è un orgoglio intimo che io sto condividendo con voi poi c'è We Were Forgotten l'album dopo dove io faccio una preghiera ai nostri defunti perché chi è che non ha perso una persona cara nella vita però con i problemi che abbiamo noi del quotidiano li dimentichiamo invece delle volte sarebbe bello fermarsi ricordare di una pacca sulla spalla di una parola data di un nonno di una nonno purtroppo anche di un genitore qualcuno che non c'è più che è sempre con noi però noi delle volte sembra che ci scordiamo di loro dei loro insegnamenti allora questo We Were Forgotten è stato un omaggio ai miei defunti ma i defunti di tutti quelli che purtroppo non ci sono più con We Were Forgotten si va in Messico a fare il DVD Città del Messico Circo Volador 3000 persone e vabbè è tutto su Youtube è tutto su Infra quindi non sto neanche qua a raccontarvi come è andata è andata comunque molto bene tornando mi tiro via uno sfizio personale dedico dedico un CD all'epopea della guerra patriotica sovietica di Deo Vittori l'Unione Sovietica ha avuto 20 milioni di morti durante la seconda guerra mondiale ci sono delle storie che sono incredibili incredibili e le ho volute raccontare qua perché il mondo deve sapere cosa vuol dire essere patrioti cazzo e non chi mi conosce sa che io la politica non la metto mai nella musica e tale ed è così perché perché ognuno deve pensarla come vuole fino a un certo punto però mi troverà sempre pronto ad ascoltarlo quindi io racconto ciò che è accaduto lo racconto la mia opinione l'ho imparato quando abbiamo registrato The Diarist che raccontavo l'assedio di Leningrado non si può mettere cioè quando tu parli della guerra tu non puoi metterci del tuo a livello di pensiero perché la storia si analizza ma non si giudica mai perché noi non c'eravamo lì quindi non la possiamo giudicare cosa avremmo fatto noi quindi la storia si analizza e quindi le mie canzoni che sostanzialmente sono poi racconti in poesia di vicende accadute prendono spunto da cose realmente accadute nella storia e poi arriviamo alla massima esprazione della lirica credo con un grandissimo Jacopo Rossi bassista dei Dark Unacy che è riuscito a ero lì con Jacopo un giorno e dicevo Jacopo vorrei raccontare le storie vorrei vorrei raccontarvi quando con quanto mi sento triste quando smette di nevicare e comincia a piovere per me è una cosa devastante perché è una specie di per chi è nato dove c'è la neve come me quando nevica ti apre il mondo faffanculo se le strade sono bloccate cazzo me ne frega sta nevicando è bellissimo torno bambino è una cosa ma qui però smette e poi arriva la pioggia che la porta via ed è un po' il senso della vita di quando ti vengono a mancare delle cose che tu non vorresti ma sai che la vita è quella le devi lasciare andare devi lasciare andare un amore devi lasciare andare un amico che ha deciso di interprendere una strada diversa e tu l'avresti voluto al tuo fianco devi ti piace quel lavoro ma lo devi cambiare perché comunque lì non c'è sbocco però come dicevo all'inizio quando si chiudono porte si aprono anche portoni quindi non è detto che la tristezza di un cambiamento o di una fine poi sia la fine di tutto potrebbe essere un inizio e Jacopo Rossi Jacopo Rossi che non ringrazierò mai abbastanza mi ha tirato fuori questo questo disco e come vedete tornando indietro De Deo Vittori Alessandro Alessandro Magnoni un battarista di raro prestigio Daniele Galassi un grandissimo grandissimo chitarrista grandissimo frontman il frontman solito è un cantante lui riusciva a essere frontman anche se andò la chitarra ma lui è frontman nella vita anche quindi va bene così Claudio Cinquegrane grandissimo grandissime stesure musicali su 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 Weaver of Forgotten Dienomis ve ne ho parlato all'inizio Dienomis ve ne ho parlato all'inizio non lo saluterò alla fine di questa di questa chiacchierata che sta volgendo il termine abbiamo credo che con Weaver of Forgotten abbiamo raggiunto l'apice anche come band perché provavamo tre volte alla settimana quattro settimane quattro settimane al mese o cinque quando i mesi erano lunghi più i concerti perché erano comunque gli anni d'oro tutti i sabati eri fuori a suonare dove c'erano dei cash importanti dove dove pensavi che probabilmente da qualche parte saresti arrivato poi è cambiato tutto ma va bene così ma va bene così perché quello che ho provato nei Dark Lunacy io compierò 50 anni fra poco ma in realtà ne ho 150 ma i tour che abbiamo fatto in tutto il mondo la gente che abbiamo conosciuto le culture diverse che abbiamo conosciuto il sentirsi il sentirsi delle rock star perché comunque è una cosa alla quale ci tengo i nostri i nostri concerti all'estero sono sempre stati concerti nei quali venivamo chiamati e retribuiti quindi nel momento in cui tu arrivavi eri il loro eroe e lì ho scoperto perché gli Iron Maiden fanno dei tour 300 date in un anno perché fondamentalmente è come lavorare un'ora al giorno quando hai quando sei riconosciuto per il musicista che che sei e che quando sei riconosciuto per quello che hai scritto e per quello per quello di cui sei stato apprezzato è meraviglioso e potrei continuare ancora ragazzi ma vi saluto con con un abbraccio a Cristian per avermi fatto andare a braccio con questo disordine che è tipico dei regattieri però i regattieri sapete che hanno un disordine ben 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 chiaro in testa ecco io non sono un regattiere devo devo ancora devo ancora diventarlo però spero di di avervi raccontato un po' di 25 anni di Dark Lunacy vi ringrazio per essere arrivati a a 50 minuti di racconto perché mi rendo conto che che supportarmi quando parto così non è non è non è non è facile ma quando il pato schiama il pato schiama voglio ringraziare quasi in ordine d'apparizione Luigi Berti Imer Bigi che sono stati batterista e bassista del secondo e terzo album vorrei ringraziare Bernard che è stato il bassista del primo album vorrei ringraziare Alessandro Vagnoni Daniele Galassi Andy Marchini Claudio Cinquegrane persone con le quali non sarei qua a parlare con voi Marco Binda il nostro attuale batterista che è un grandissimo musicista Davide Arinaldi il nostro attuale chitarrista che è un che è un ragazzo straordinario mi ripeto con i complimenti ma ma è così e perché è quello che penso e Jacopo Rossi che è stato oltre che un amico una persona che è stato capace di traghettare un periodo difficile di questa di questa storia di 25 anni in ultimo ringrazio il mio il mio amico fraterno Simone Ferrari che senza di lui tutto questo non sarebbe mai stato possibile per lui però non ho parole quelle gliele dico in privato quando ci vediamo a lavorare perché comunque stiamo lavorando ancora tanto ci siamo anche fatti un regalo ci siamo fatti un regalo ultimamente che uscirà tra poco che è The Silent Storm che The Silent Storm non è altro che la rivisitazione non è esattamente una masterizzazione ma è la rivisitazione del primo demo Silent Storm The Silent Storm 1997 2022 quindi ci sentiamo presto grazie Christian te lo dico guardando nel monitor ti voglio bene a presto e grazie a tutti